Non credo che la logistica in generale, per rispondere subito alla sua ultima parte della domanda, sia selettiva nel lavoro per le donne e quantomeno non è una mia esperienza. Se io lavoro in Grimaldi da 31 anni non ho mai visto fare nessun tipo di differenza tra uomini e donne, anzi è sempre stato premiato il merito e mai se si trattasse di una donna o di un uomo. Io come presidente di Automar, che è una società del gruppo Grimaldi, ho il direttore generale che è donna, è lì, è bravissimo, ho il responsabile del terminal portuale di Gioia Tauro che è donna, il direttore amministrativo che è donna, quindi sono stracircondato di donne. In Logiport, che è una società sempre del gruppo Grimaldi, della quale sono presidente, che opera nelle attività portuali di Salerno e Civitavecchia, sono tantissime le donne. Certo, non è facile vedere un autista di un camion donna, perché a volte il lavoro può essere un po' pesante per il fisico di una donna. Raramente vediamo nei porti, nelle attività operative, la presenza di donne, non mi riferisco alle attività terminalistiche, ma a quelle di imbarco e sbarco. Però non è una preclusione in generale, né tantomeno la Grimaldi ha mai fatto una questione appunto di sesso. Abbiamo tantissime colleghe, soprattutto all'estero devo dire, che hanno meritato dei ruoli anche molto importanti e lì non c'è una differenza né di salario né di salario. E quali sono i mestieri, soprattutto del mare, di cui c'è più bisogno e più carenza? E' un momento un po' drammatico per la logistica in generale, in particolar modo per il settore marittimo. Manca il personale alberghiero per le navi passeggeri, mancano direttori di macchina, mancano comandanti, mancano ogni forma di personale che è utile per il trasporto marittimo. Eppure questo è un settore che garantisce dei salari abbastanza importanti, proprio perché è un tipo di lavoro sacrificato. Stiamo parlando che un marinaio con il minimo del ranking può guadagnare anche 2.000 euro al mese, fino ad arrivare a 8, 9, 10.000 euro al mese per quanto riguarda comandanti o direttori di macchina. Quindi sono dei lavori che sono sicuramente un po' sacrificati, però in anticipo rispetto ad altri lavori possono garantire ai giovani di realizzare i propri sogni con un largo anticipo. E in ogni caso ci sono dei lavori che oggi possono anche permettere di garantirsi anche un maggiore tempo a disposizione, perché lavorare a bordo di una nave significa essere 4 mesi impiegati e poi 2 mesi a terra. Quindi nell'alternativa riposo-lavoro si può anche gestire una vita migliore nel riposo. Mancano anche autisti. Il settore a livello europeo ne mancano 600.000 e pare che saranno 2 milioni nei prossimi anni, entro il 2025. Questo è un disastro perché, specie nell'automotive, noi stiamo soffrendo moltissimo la congestione dei porti a causa del fatto che non si trovano autisti per il trasporto di BISARC. E questo sta creando dei notevoli problemi alla realizzazione di un servizio di qualità e alle consegne delle autovetture ai clienti finali. Anche in questo settore il gruppo Grimaldi investirà, certo non è come investire 3 miliardi di euro in 25 navi, però anche in questo settore stiamo investendo. E a breve la società Automare avrà fino a 100 BISARC, quindi avremo da assumere fino a 100 autisti e non sarà facile trovarlo. Automare avrà fino a 100 BISARC,